Sì, il Natale è la nascita di Gesù perché l'uomo possa rinascere. Gesù disse a Nicodemo se l'uomo non nasce di nuovo da acqua e spirito non entra nel Regno dei Cieli. La venuta del Figlio di Dio, perché Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo che entra nella nostra storia, ci dà la possibilità di rigenerarci come persone, come uomini, portandoci l'energia, la forza del suo amore perché diventi la nostra capacità di amare. Infatti l'originalità della presenza di Gesù nella storia è che ha portato l'amore che si esalta, si realizza nell'essere misericordiosi. Gesù d'altronde ci dice amatevi come io ho amato voi e lui ci ama nella misericordia perché è stato lui a cominciare, non siamo noi che cerchiamo lui, ma è lui che ha cercato noi. Quindi l'augurio veramente che la presenza di Gesù ci aiuti a vivere l'impegno nella vita di superare il male, ma non nella logica stessa del male, ma nella logica del bene. Questo lo diciamo e lo ripetiamo, no? Vincere il male con il bene, questo possa essere l'augurio che diventa l'impegno di tutti coloro che hanno il coraggio di aprire la porta della propria vita, della propria casa a questo bambino che nasce, come sappiamo, in una grotta, viene deposto in una mangiatoia, quindi viene non con la forza e la potenza, ma soprattutto invece col dono di sé. C'è un messaggio in particolare alle famiglie che soffrono per le difficoltà economiche. Lei è sempre stato vicino ai lavoratori quando le hanno chiesto un aiuto, non si è mai tirato indietro un pensiero speciale a loro? Sì, io vorrei che veramente sentissero questa mia vicinanza, nello stesso tempo per aiutare a ritrovare speranza e la speranza è legata, a mio modo di vedere, nel rileggere proprio la vita all'interno di un'esigenza di solidarietà, cioè bisogna evitare la paura di chiudersi, bisogna avere il coraggio di non rassegnarsi, di non isolarsi, ma piuttosto vivere l'impegno reciproco a creare relazioni solidali, perché è vero, noi perderemo capacità di ricchezza, così, ma se quel poco che abbiamo lo riusciamo anche a dividere, è un bene per tutti. Se invece ognuno pensa di tenere quello che ha solo per sé, penso che alla fine rimarremo male tutti quanti. Prima parlava anche dei giovani, quanto è importante il loro apporto? Per me è decisivo, è una delle mie preoccupazioni, quella di come aiutare i ragazzi a ridiventare protagonisti. Proprio per questo noi abbiamo messo in cantiere l'ipotesi del sinodo dei giovani, che vuole essere dei giovani per i giovani e con i giovani. Come aiutare sia coloro che già vivono nel contesto ecclesiale, io mi auguro anche gli altri, in modo che possano sentirsi accolti, ascoltati, ma soprattutto presi sul serio nella loro potenzialità, per dare un'impronta anche di novità alla vita di oggi, dove tutti ci troviamo un po' tutti in maniera un po' scomoda, insomma. Papa Francesco ha sottolineato l'importanza di accendere la luce al proprio interno, non soltanto la luce del presepio, del Natale, dell'albero. Beh sì, perché il Papa ci ripete sempre che la Chiesa non si afferma col preselitismo, non è che facciamo pubblicità, propaganda, ma solo attraverso la condivisione della gioia della propria fede. È la gioia che diventa la luce che contamina, che riscalda, perché è difficile che io possa avvicinare qualcuno dando tristezza, dando scoraggiamento, insomma. dare gioia non è però un modo di dire vuoto, è la convinzione che Gesù la vita la riempie di significato, di valore, cioè chi opera dando la risposta al Signore credo che la sera può dormire tranquillo.